Uno degli aggregati più grandi della ricostruzione post-sisma dell'Aquila, per qualcuno uno dei cantieri più vasti e complessi d'Europa per il tipo di interventi strutturali e di restauro che lo interessa. Parliamo dell'aggregato edilizio di Sant'Emidio a Piazza Duomo, la parte privata del megacomplesso del Duomo di San Massimo. Un'opera del valore di 35 milioni di euro che non comprende l'edificio religioso che gli è adiacente e per il quale invece l'avvio dei lavori è ancora lontano, essendo il progetto in approvazione e andrà giudicato con un appalto pubblico. L'aggregato Sant'Emidio comprende invece tutti gli alloggi privati di proprietà per la gran parte della cura arcivescovile e di altri privati. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'associazione temporanea d'impresa composta dagli annini costruzioni, SAD e DP restauri, rispondendo a un bando che ha imposto agli aziende requisiti economici di specializzazione simili a quelli delle gare pubbliche. Sono passati dieci anni dal terremoto, perché c'è voluto tanto tempo per cominciare a lavorare? Prattamente perché l'aggregato Sant'Emidio a livello normativo racchiuda tutte le ordinanze che sono state messe nella loro bontà e nella loro complessità. Gli interventi sono stati presentati sotto il profilo della ricostruzione privata nel 2013, nell'agosto 2015 è intervenuta la legge 125 dove di fatto ha decretato il passaggio di soggetto attuatore dalle diocesi ai soggetti pubblici, quindi al Ministero dei beni culturali. Che significa che le chiese sono diventate da quel momento dei beni pubblici? Sì, sono dei beni privati ad utilizzo pubblico e dunque il soggetto attuatore, quindi chi effettivamente segue i lavori, chi appalta i lavori, chi deve in qualche modo riaprire e ripristinare l'agibilità, è un soggetto pubblico e non più privato come le diocesi. Quando sono cominciati i lavori e quando si potrà restituire l'aggregato alla città? L'aggregato nella sua parte privata credo che tra un anno e mezzo sia completamente concluso. A giugno di quest'anno finiranno i lavori per le parti edili e impiantistiche, mancheranno le finiture, quindi i pavimenti, i rivestimenti e qualche decoro, diciamo così. Dovrebbe partire entro il 2020 invece il cantiere per il recupero del Duomo di San Massimo, sventrato dal terremoto del 2009 e rimasto letteralmente a cielo aperto per nove anni, ma solo per quanto riguarda il primo lotto dei lavori, quello appunto della copertura, 18 milioni di euro. Il progetto di recupero è al vaglio di una commissione nata ad hoc all'interno della superintendenza ed è alle battute finali. Altri 15 milioni di euro e un tempo indefinito serviranno poi per il secondo lotto di lavori sulle altre parti crollate.